C'era di nuovo questo intoppo, la Regione lo ha risolto, di nuovo riaccollandosi la responsabilità fino a fine consigliatura e unisi i lavori master per di tenere aperto il complesso Arza. Il Palazzo Torloni ad Avezzano rimane nella disponibilità dei cittadini. Il Presidente di Pangrazio lo ha chiarito davanti ai giornalisti, un incontro necessario per spiegare i dettagli della convenzione stipulata tra Giunta e Consiglio regionale. Un atto che sancisce la libera fruizione del Palazzo fino all'inizio dei lavori previsti dal masterplan. Nel 2015 affidando questo complesso all'amministrazione comunale di Avezzano e quindi riaprendolo alla collettività dopo tantissimi anni è venuta fuori questa programmazione del masterplan. Abbiamo insistito con una destinazione di 4 milioni e 700 mila euro. Oggi so che è stata fatta la giudicazione nei giorni passati per l'affidamento della progettazione, immagino che appena finita la progettazione, nei tempi mi sembra molto stretti, l'amministrazione potrebbe subito fare l'affidamento per l'inizio dei lavori facendo un bando pubblico di questa importante opera.